Il Paradiso VII, finale di stagione, Marco svelare che Stefania ha un altro uomo. Nel finale di stagione del Paradiso delle Signore VII potrebbe essere fatta chiarezza sul rapporto tra Marco e Stefania. Sta tenendo banco in queste settimane che portano le battute conclusive di questa fortunata stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1. I colpi di scena non mancheranno, Marco confesserà infatti la fine della sua relazione con Stefania. Anche se non renderà pubblici i motivi che si celano dietro a questo addio che ha spiazzato in primisi i numerosi fan della soap opera. Nel dettaglio, le nuove anticipazioni del Paradiso delle Signore VII rivelano che a tenere banco saranno le vicende di Marco e Stefania. La coppia più amata di questa fortunata stagione della soap opera del primo pomeriggio è già scoppiata dopo pochissimi mesi di fidanzamento. Un addio che sarà comunicato dal giovane Marco, il quale svelerà a suo fratello di essere rientrato a Milano dopo la fine della sua relazione con la giovane Venere che aveva fatto breccia nel suo cuore. Un addio che non passerà inosservato dato che i motivi reali che hanno portato la giovane coppia a questa scelta non saranno resi noti ufficialmente. Cosa è successo tra Marco e Stefania? Perché i due ragazzi si sono detti già addio pochi mesi dopo la nascita di questa storia d'amore? Il gran finale del Paradiso delle Signore VII si preannuncia scoppiettante, nel corso delle prossime puntate di questa stagione. Potrebbe infatti essere fatta chiarezza sulla love story tra i due ragazzi. Marco, in un colloquio con la Contessa, ha svelato che forse Stefania potrebbe non sentire la sua mancanza alludendo al fatto che questa decisione potrebbe essere stata presa proprio dalla figlia di Ezio e Gloria. Insomma, il sospetto è che l'artefice di questo addio sia stata proprio la giovane Venere che fino a qualche tempo fa prestava servizio all'interno del grande magazzino milanese. Di conseguenza, in questo atteso finale del Paradiso delle Signore, Marco potrebbe decidere di far chiarezza su una separazione lampo che ha lasciato perplessi e meravigliati anche i tantissimi fan e sostenitori della Sop. Non si esclude che dietro questa separazione possa celarsi l'interesse di Stefania nei confronti di un altro uomo. Il sospetto, quindi, è che la giovane Venere possa essere uscita allo scoperto assieme ad un'altra fiamma e a quel punto Marco potrebbe aver deciso di farsi da parte e lasciare il suo incarico in America per rientrare dalla famiglia a Milano. Dove riprenderà in mano le redini della sua vita affettiva, con tanto di riavvicinamento all'ex gemma, e lavorativa. Grazie. 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 Grazie.